Lo scorso mese di giugno nella città di Agropoli sono stati avviati lavori di restyling del porto turistico, lavori che sono stati interrotti però a causa della stagione estiva. In questi giorni presso l'aria si lavora speditamente per rendere il porto di Agropoli efficace ed accogliente prima dell'arrivo della stagione balneare. L'importo complessivo per i lavori di qualificazione è di 630.000 euro finanziati interamente con fondi del programma operativo FEAMP Campania 2014-2020 misura 1.43 porti luoghi di sbarco. Gli interventi previsti per il porto turistico sono il rifacimento dell'asfalto esistente, l'ammodernamento del muro di soprafrutto relativamente ad intonaco e illuminazione, l'ammodernamento della banchina in merito a pavimentazione, asfalto e segnaletica, adeguamento e realizzazione ex nuovo di impianti idrico, elettrico, antincendio e sicurezza e integrazione a redi e banchina. Gli interventi iniziati qualche giorno fa consistiranno nella messa in opera della pavimentazione dei marciapiedi ad oggi cementati e un totale restyling di arredo urbano attraverso l'installazione tra l'altro di nuove panchine intelligenti con possibilità di ricarica per i dispositivi mobili, il miglioramento dell'illuminazione e un'area giochi per bambini. Previsti sei impianti di videocontrollo e sette colonnine antincendio, il cantiere procederà per lotti funzionali o microlotti in modo da non comportare disagi all'attività del porto stesso. L'ente agropolese è risultato beneficiario, oltre all'intervento in corso, anche di un ulteriore finanziamento regionale per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei fondi del porto di Agropoli per un importo di 2,8 milioni di euro. Quello in corso e l'altro consentiranno di migliorarlo e renderlo maggiormente funzionale alle esigenze dei diportisti e degli altri fruitori.